Ciao a tutti, sono Cristian di Vasibo Europe, siamo qui a Fiera Didacta a Firenze per presentare le nostre nuove linee di prodotto. Vasibo è abbastanza conosciuta sul mercato italiano per la tecnologia, in particolare i monitor interattivi e quest'anno abbiamo deciso di ampliare la linea di prodotti andando a spaziare sulle STEM, sulla robotica e chiaramente sull'intelligenza artificiale. Allora presentiamo questi nuovi prodotti che abbiamo portato per quest'anno per innovare le nuove classi STEM della scuola italiana, abbiamo Infento, un prodotto che assembla macchine a motore a grandezza naturale, UBTEC con robot fino a 17 servomotori per le scuole superiori e UGOT che sono dei nuovi robot assemblabili come le immagini vi possono mostrare, abbiamo Globisense come sistemi di acquisizione dati con più di 15 sensori integrati che possono andare ad aumentare quelle che sono le esperienze realizzabili con il nostro Science Plus. E ancora esclusivo abbiamo un Sandbox che è un ottimo prodotto, è un eccezionale prodotto nella scuola dell'infanzia primaria che permette ai ragazzi di lavorare per la sabbia cercando di realizzare degli scenari stupendi e innovativi sulle tettoniche a zolle, sui cani, sulla preistoria, insomma che permette di studiare giocando.